A Meduna di Livenza tira vento di polemica. Il sindaco di area leghista Marika Fantuzza avrebbe detto no alla ormai tradizionale festa della birra. Tra le vie del paese c'è Chimogugna mentre impazzano i titoli su uno stop alla festa che poi di vero stop non si tratta, ma piuttosto l'amministrazione non ha concesso il giorno in più chiesto dalla proloco organizzatrice. Un venerdì sera che avrebbe consentito di dare uno spazio ai giovani per esibirsi. Un secco rifiuto perché si vocifera in paese e l'iniziativa avrebbe danneggiato il lavoro dei commercianti che però se ne chiamano fuori. Il giorno in più non cambia nulla per nessuna delle parti sia da una parte che dall'altra, né per i ristoratori né per la proloco. Per di più questa festa sarebbe stata inserita il venerdì sera, un venerdì sera che comunque non si trovano i locali affollatissimi a Meduna. Immediata anche la replica della proloco. Spero che non sia una cosa personale perché poi mascherarsi dietro i malumori dei commercianti la trovo una cosa poco reale perché noi collaboriamo in maniera attiva. Tra l'altro, spiega il presidente, la proloco di Meduna ha scopi sociali, i soldi raccolti vanno investiti in attività del paese e con i commercianti locali loro ci lavorano. Abbiamo un panificio che fa dell'ottimo pane e compriamo tutto al nostro panificio. Abbiamo una pasticceria che fa dei dolci squisiti e compriamo i dolci dalla nostra pasticceria. Lo stesso vale per la carne, per l'ortofrutta e tutto. Quindi la nostra non è solo una collaborazione così di chiacchiere. Il problema spiega semmai non sono i due eventi all'anno della proloco, tra l'altro uno a maggio e la festa della birra ad ottobre, ma tutte quelle sagre feste di paese che si intrecciano a cavallo nei vari comuni della zona. Ci sarebbe anche una legge regionale, ma i campanili sono tanti. Regolamentare tutta questa procedura con i comuni adiacenti credo sia una cosa impossibile. Limitare sì, però abolire no.